Abbiamo capito, ci l'ho già fatta, madonna, siamo arrivati, è un spettacolo, porca miseria, guardate che roba, la guitar, si svilte tutto, il turinnevamento, il tabaro, un buon viso, se non mi salite guardate il punto, mi faccio, mi faccio, mi avviene, si uscendo giù subito perché la neve sta già mollando, mi preferisco tornare via lontano, tornare alla crocetta e fare il video un po' più con calma perché da sia gli è parecchia esposizione del turinale, la neve è quasi ghiacciata, però bella, bellissima, considerazioni, poi guardate le nord, ma sembra veramente bellissima, in modo semplice, la roncia, la mè, la rancasse, la metà ghiacciata, bellissima, bellissima, veramente, stupendo, si è buonissima, è meglio non il chiede, però mi sa che la faccio solo, a volte perché l'altro è bella, farinosa, dura, come dovrebbe essere, un po' più complice con il canapone, con il canapone, però vediamo, però vediamo, provo di lavoro, a volte, vediamo, facciamo un minuto, ok, adesso vabbè, arrivederci,